Militerà in Serie A quest'anno con la casacca del Livorno. Luca Siligardi è stato uno dei protagonisti della cadetteria nella scorsa stagione. Poi un brutto infortunio l'ha lasciato ai box. Adesso è pronto a ripartire. È ancora fresco in lui il ricordo di Bari. Siligardi faceva parte della Rosa delle Meraviglie di Antonio Conte, la stessa squadra che poi approdò in Serie A. Periodo però macchiato dallo scandalo calcio scommesse. Allora Siligardi, innanzitutto come stai? Perché ricordiamo tutti il tuo brutto infortunio a marzo. Bene, bene, sono entrato in squadra proprio per questo ritiro. Adesso niente, incomincio a fare qualcosa un po' col gruppo un po' a parte e poi dopo pian piano cercherò di recuperare per iniziare il campionato. Ho fatto sei mesi e basta a Bari, anche se comunque sono stato benissimo, eccetera. C'è che quest'anno sono stato più protagonista a differenza di quando ero a Bari. Naturalmente a Bari ho fatto più fatiche, ero appena venuto fuori anche dalla primavera, quindi insomma ho fatto più fatiche. Forse anche ero meno consapevole delle mie potenzialità. Come vivi l'inchiesta del calcio scommesse sentendo nomi del calibro di Gillet, Caputo, a persone che stanno ancora vivendo questo incubo? Tu li hai conosciuti personalmente, cosa ne pensi? Mi dispiace perché sinceramente non pensavo, ecco, avendo fatto quei sei mesi lì, non pensavo che venissero fuori comunque loro o comunque così tante persone, però purtroppo chi comunque fa certe cose che non sono giuste poi paga. Ecco.